Sono Francesca Raimondi, sono un'insegnante di violino di Voghera in provincia di Pavia. I miei allievi sono bambini piccolissimi, tra i 2 e i 6 anni, anche con disabilità. Da quando è iniziato l'isolamento, noi non abbiamo mai smesso di fare lezione, anche se a distanza, e i bambini hanno continuato ogni giorno a suonare e a studiare a casa con i loro genitori. Il mio studio si chiama La musica è gioia e io sono convinta che mai, come in questo periodo, la musica possa essere gioia veramente, perché insegna i bambini ad esprimere le proprie emozioni e gli aiuta anche ad affrontare l'isolamento, ad avere un impegno, una routine, un interesse, ad essere per quanto possibile sereni e anche a saper aspettare. Li insegna ad avere pazienza, a darsi degli obiettivi e a raggiungerli. Da quando è iniziato tutto questo, noi ci siamo fermati, ma fermarsi non vuol dire rinunciare a fare ciò che si ama, ma solo farlo in modo diverso. Fino a quando sarà necessario, io e i miei allievi rimarremo a casa, ma continueremo a fare musica, perché sappiamo che un giorno potremo ritrovarci e suonare tutti insieme. Ciao 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 Ciao